Benvenuti ragazzi, benvenuti nella seconda parte di spacchettare le figurine e poi la seconda parte immediata comunque ho aperto la finestra perché era troppo buio però avevamo ancora le altre da spacchettare e sono altre cinque cioè ho voluto fare cinque in un episodio e cinque in un altro ho la prima qua e stavo dicendo che avevo spacchettato una off camera prima di quel video e mi era uscito un altro della Juve, ora non mi ricordo però ci concentriamo su queste abbiamo un botto di figurine da attaccare allora si va con la sesta ragazzi il sesto pacchetto non vi dico cosa mi è uscito nel primo video ma vi dico solo che è un video folle ragazzi andatelo a vedere e poi e poi non vi dico cosa c'è allora Roma, squadra della Roma Cristian Pulis e Cnova Firma, bellissimo con tre giocatori del Cosenza poi Aron Martin se non mi sbaglio, sì Aron Martin del Genoa squadra femminile della Samp Giampiero Gasperini e poi una leggenda ragazzi Ciro Immobile leggenda della Lazio un bomber della squadra di Maurizio Sarri andiamo col settimo si va ragazzi si va allora andiamo col settimo pacchetto di figurine dove troviamo Messina e Cerignola qui Re del Cosenza Catania e Crotone Catania e Crotone poi troviamo chi è questo Saleme Kers che si è fatto biondo Saleme Kers doppione della squadra della Sampdoria Tosby e Berisha Tosby e Berisha bene andiamo un po' brutto non era come il primo non era come il sesto andiamo con l'ottavo ragazzi siamo verso la fine siamo agli sgocci chi è questo Darko Darko Lazovic ragazzi Darko Lazovic del Verona bellissima Elite Augiello nuovo giocatore del Cagliari venuto quest'anno e quest'estate Modena squadra squadra femminile se non mi sbaglio una squadra mastile il nuovo arrivato quest'estate di Gianni Renders del Milan Maric 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 del Monza Nandez e Magnani del Verona e del Cagliari andiamo col nono pacchetto di questo di questa di questi due episodi andiamo andiamo allora tre giocatori del Parma altri tre giocatori del Parma Reggiana tre giocatori tre giocatori poi che abbiamo qui non mi dire ancora ancora lui ancora poi Giassi e Bani e Meret Bani e Meret ultimo pacchetto ragazzi ultimo pacchetto e qui si deve fare piano piano con tranquillità ragazzi attenzione con molta molta tranquillità allora vabbè dai allora si va non è rimasto uno allora parto dalla fine Ue Ezka del Cagliari e vabbè Dodò della Fiorentina ok e Buei dell'Empoli ancora lui Martino bellissima Baschilotto Ternana Messina benedetto la doge Gerignola e poi un altro va bene va bene ragazzi abbiamo concluso qui la questo episodio c'è un altro qui spero di no ok abbiamo concluso questo episodio così e ragazzi qua c'è un casino sulla mia schiava nuova tanto comprate questo se lo volete in più c'erano questi ragazzi in più c'erano questi questi qui ragazzi erano tutti questi e poi li vado ad aggiungere va bene da Monster Bianconer tutto ciao ragazzi alla prossima reaction della Juve ciao